Il 25 settembre accadrà che dobbiamo occuparci d'Italia, perché questa campagna elettorale è caratterizzata da un'esplosione di promesse assurde, costosissime, che non hanno nulla di connessione con la realtà dura che stiamo attraversando. Campagna elettorale ufficialmente avviata anche in Capitanata per il Terzo Polo, la coalizione nata dall'alleanza tra Calenda e Renzi, stamani a Foggia conferenza stampa di presentazione delle liste alla presenza del presidente nazionale di Italia Viva Ettore Rosato, assieme ai candidati Rosa Ciccolella, Savino Danaro e Chiara Del Ricco per la Camera dei Deputati e Lorenzo Frattarolo e Nunzio Angiola per il Senato della Repubblica. Tra le fila della coalizione si evince un chiaro ottimismo, confortato dai numeri dei sondaggi che parlano di percentuali in crescita. Noi portiamo oggettivamente risposte che sono concrete, in continuità con quanto sta facendo il governo Draghi, un governo che si è messo in mezzo ai problemi, ha portato l'autorevolezza di Mario Draghi in Europa per dare una mano a questo paese, tutto il resto mi sembra un grande rumore di sottofondo che serve solo per confondere gli elettori. Siamo partiti anche noi con il terzo polo, ritengo che sia questa la scelta più credibile per gli italiani, anche perché abbiamo candidati che sono i rappresentanti del territorio, abbiamo le persone che si sono spese, abbiamo due frontman donne, abbiamo la Carfagna e la Bellanova, che hanno fatto tanto per il sud, sia per il caporalato e sia per trasferire una serie di fondi con il PNRR, per cui ci sentiamo veramente a posto e ci sentiamo con la coscienza pulita di parlare il linguaggio della verità per gli italiani, per i pugliesi e siamo convinti di essere alla sorpresa della campagna elettorale.